Compatta di lusso con prestazioni da riferimento ed un appeal inconfondibile, Audi propone sul mercato la terza generazione della A3, un'auto che dal 1996 ad oggi è diventata un'icona nel traffico cittadino, grazie ad un abbinamento vincente che soddisfa il palato di chi richiede prestazioni sportive plasmate su linee eleganti. Proprio il design in quest'ultima versione è stato aggiornato per rimanere al passo con i tempi e fronteggiare la concorrenza ma senza eclatanti rivoluzioni per mantenere quella linea familiare che ne ha decretato il successo nel tempo. Il frontale con la nuova calandra single frame ed una nuova griglia decorativa acquista ora un carattere più sportivo, evidenziato anche da tratti più marcati. A far da contraltare ci pensa la cornice cromata che armonizza ed evidenzia il piglio della compatta tedesca. Aggiornamenti anche sul paraurti e sulle prese d'aria, volta ad offrire una linea generale che punta dritto a sfidare ogni tipo di asfalto dal traffico urbano ai passi di montagna il primo e più profonde le seconde. La A3 è stata rivista anche nelle linee dei pari, all'interno dei quali c'è la consuetta Wing, l'aletta cromata tratto distintivo e indispensabile della filosofia Audi. Ulteriori modifiche a livello estetico si trovano anche negli specchi, che ospitano gli indicatori di direzione. Novità anche per chi fa caso ai cerchi, ora è disponibile in ben 12 modelli diversi, con varie configurazioni dai 15 ai 17 pollici, a seconda degli allestimenti scelti. Dal punto di vista tecnologico, la nuova A3 offre di serie il sistema Park Assistant, capace di agevolare la guida. Il funzionamento è molto semplice. Grazie a dei sensori ad ultrasuoni, il veicolo è in grado di misurare gli spazi liberi per un parcheggio. Quando il conducente inserisce la retromarcia e preme il pedale dell'acceleratore, il sistema interviene assumendo il controllo del servostezo elettronico ed effettua autonomamente la manovra. Propulsori diversi, sia benzina che diesel, tutti garantiti dalla grande affidabilità con la quale si presenta la casa teutonica. In particolare, i nuovi due litri TDI hanno subito notevoli migliorie e si avvalgono della nuova tecnologia di iniezione Common Rail, che mira ad una notevole fluidità di funzionamento. Anche il prezzo risulta interessante, considerando il prestigio e l'esclusività del mezzo. A seconda degli allestimenti e delle motorizzazioni, l'Audi A3 avrà un costo variabile tra i 23.000 e i 38.000 euro.